Hanno spento un po' di ansia portando un sorriso ed un momento di gioia ai bambini del reparto di pediatria e chirurgia pediatrica dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. I vigili del fuoco capeggiati dalla comandante Rosa Deliseo hanno scortato questa mattina la Befana accompagnandola dai piccoli per essere vicini ai bambini che soffrono e che sono costretti in questi giorni di festa a stare nei reparti. Una Befana sorridente ha distribuito giochi e dolciumi a piccoli degenti tra le corsie dei reparti a loro dedicati. Un momento di festa per l'iniziativa realizzata grazie alla disponibilità dei vigili del fuoco di Salerno, ai primari dei reparti, il dottore Ennio Clemente e il Rosario Pacifico, ai volontari dell'Avo che si prefigge lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli pazienti dell'ospedale di Salerno. Sì è un momento per essere vicino ai bambini, ai bambini che soffrono ovviamente dei momenti un po' difficili in questo periodo e siccome noi vigili del fuoco siamo un po' abituati per lavoro a stare vicino alle persone che sono in difficoltà riteniamo opportuno anche per questi momenti ludici di gioia portare un po' di conforto lì dove ovviamente è possibile con le poche cose che riusciamo a dare. Un momento di festa, un momento per i bimbi anche per vivere questi eroi del fuoco? Oddio spero proprio di sì, infatti raccontavo ai miei funzionari stamattina che in un'esperienza una volta hanno visto i bambini sempre di un reparto pediatrico, una Befana, si sono spaventati invece poi hanno visto le divise dei vigili del fuoco e li ha un po' rassicurati e hanno sorriso quindi spero che l'associazione sia favorevole per i bambini, noi siamo qui con tutto il cuore per portare nei limiti del possibile ovviamente il nostro conforto. Non è una cosa affatto negativa, le istruzioni sono sempre vicine a noi per fortuna e i vigili del fuoco hanno fatto il loro lavoro nello spegnere un po' di ansia che i nostri ricoverati hanno sempre perché non è il loro ambiente, hanno sicuramente un disagio e i vigili del fuoco sicuramente daranno a loro un momento di gioia superiore in questo periodo forzatamente di festa.